Una ragazza per il cinema è il prestigioso concorso nazionale di bellezza e talento giunto alla sua 35esima edizione. Ha visto protagonista l'azienda Ego Green, il cui patron, l'imprenditore Marcello Giavarini, ha creduto fin da subito in questo progetto che abbraccia e celebra la bellezza femminile. Una ragazza per il cinema prevede la presenza delle splendide ragazze provenienti da tutta Italia alla finale nazionale che si terrà in Sicilia e proprio a Taormina. Dopo un lungo e attento percorso di selezione regionale, sono state ben 81 le Miss che sono arrivate al momento più importante della programmazione della vincitrice. Per l'edizione del 2023 è stata proclamata Miss Ragazza per il cinema Beatrice Savignani, una splendida giovane proveniente dall'Umbria di 19 anni, incolonata proprio dallo stesso Giavarini. Nei giorni di preparazione e selezione della Miss, Giavarini con la sua azienda Ego Green si è resa protagonista dell'assegnazione di una faccia speciale, un volto per Ego Green, il presidente Giavarini insieme al team manager composto dal direttore generale Luca Puzzo, da quello del marketing Giovanni Russo e del responsabile delle vendite Daniele Consiglio, ha provveduto a scegliere la ragazza vincitrice dello speciale premio messo in pario da Ego Green. La vincitrice della fascia è stata Gaia Frisciotti, di 18 anni, di Catania, giudicandosi la fantastica esperienza di essere il volto protagonista della campagna di comunicazione della genebre azienda Ego Green 2324.